Benitalia 2022 continua, ci troviamo allo stand di Caffè Moreno SRL, la torrefazione napoletana attiva da oltre 60 anni che, come già detto precedentemente, è ormai arrivata alla terza generazione. Sono quattro anni che non ci incontriamo, è un piacere accoglierti qui dinanzi alle telecamere di VendinTV.it Buongiorno Fabio e buongiorno a tutti, bentrovati a questa edizione di Venditalia dopo quattro anni di stop dovuti alla pandemia dove abbiamo avuto modo di ampliare la nostra gamma e di portare finalmente tante novità in un'unica fiera. Una fiera che per noi è simbolo di ripartenza in questo settore della distribuzione automatica, un appuntamento molto importante per i nostri clienti e per i futuri clienti. Come prima novità presentiamo tutta la linea che potrete vedere alle nostre spalle delle macchinette a marchio Mina, un marchio moreno che è disponibile in varissimi colori proprio per dare una scelta a tutte le famiglie che hanno una macchina a cialde nella loro abitazione. In più presentiamo la nuova capsula in alluminio in formato 10 pezzi che è presentata per adesso nella miscela Aromatop, la nostra prima miscela che sicuramente amperemo con le nostre altre miscele. In più presentiamo una nuova miscela in cialda, Aroma Espresso, che dopo ricerca e selezione delle materie prime eco-friendly che oggi ci portano a essere riciclabili, la nostra cialda con carta filtro compostabile che presenta anche un nuovo packaging che presentiamo qui a Venditalia con una miscela dal carattere molto più forte, intenso come il gusto del nostro espresso napoletano. Beh, intanto sono tante cose anche e soprattutto perché erano quattro anni che non comunicavate al popolo del vending e nel frattempo voi avete realizzato tante cose. Durante questi giorni avete avuto modo di confrontarvi anche con i gestori, dei nuovi contatti, dei contatti e clienti affezionati. Qual è la vostra percezione del cambiamento del vending e dell'OCS? La percezione è sempre positiva anche grazie ai nostri rivenditori attuali e gestori. Come infatti la gamma monodose compatibile si amplia sempre di più. Abbiamo aggiunto ormai da due anni, ma presentati per la prima volta a Venditalia, la compatibile Bialetti che si aggiunge alle nostre altre cinque compatibilità. che come conoscete sono la cialda Ese 44, cioè in carta filtro, compatibile in espresso che presentiamo anche in alluminio, capsula Dolce Gusto, capsula Bialetti e capsula Modomio. Vittoria, io sono quasi imbarazzato dalla tua spigliatezza. Tu che tre anni fa hai esordito con altre interviste per Oreca TV, oggi sei diventata bravissima e stai davvero crescendo anche sotto questo punto di vista. Qual è il futuro che dobbiamo attenderci a questo punto da Caffè Moreno per nuovi prodotti del prossimo futuro, dei prossimi sei mesi, del prossimo anno? Beh, diciamo che la nostra ambizione è di migliorare e di ampliare i nostri cataloghi, la nostra gamma prodotti. Noi di Testa Generazione cerchiamo di portare più novità possibili in azienda, quindi il nostro obiettivo è quello e sarà per sempre quello, nonostante manteniamo la nostra tradizione e la nostra qualità. Bene, allora forniamo un indirizzo di posta elettronica per potervi contattare? Allora, su info.ghiocciola.caffè Moreno potete chiedere tutte le informazioni che desiderate su tutta la nostra linea prodotti. Grazie Vittoria, noi ci rivediamo prestissimo su VendingTV.it. Nel frattempo io ti ringrazio e spero di incontrarti anche prima, magari in un piccolo web in air di quelli organizzati da Vending News. A presto, arrivederci. A presto, arrivederci.